ho ucciso padre perché hai ucciso raimond per soldi padre per soldi hai ucciso qualcuno per denaro si padre non per odio non per altri motivi per soldi e chi hai ucciso per soldi raimond lei padre come scusa ho detto lei padre cos'è non ci sente harry waters la saluta il bambino oh Ho fatto i capricci, sono andato male in matematica, sono stato triste.